Quindi se noi guardiamo il mondo dal basso, quindi nella nostra vita quotidiana, noi vediamo un essere che si affaccia al mondo, chiamato da altri e che diventa qualcuno grazie a tutti questi altri che gli permettono di soggettivare, ossia di tradurre da un punto di vista individuale tutte quelle risorse relazionali che incontra nel tempo di vita. Se questa è la nostra condizione, vuol dire che noi non possiamo mai essere al di fuori del legame, siamo sempre dentro il legame. Essere dentro vuol dire che dentro di me c'è sempre qualche cosa che mi ricorda mia madre, che mi ricorda mio padre e quindi tutte queste presenti sono presenze che mi accompagnano sempre nel mio tempo di vita, da qui non posso mai affrancarmi, posso venire a patti, posso accettare mia madre, mio padre, posso eventualmente rifiutarlo, ma anche il gesto del rifiuto segnala sempre che questa è una presenza per me importante, da qui non posso prescindere. Che cosa sta accadendo oggi? Sta accadendo che il modo con cui in senso tradizionale noi abbiamo storicamente organizzato questo legame, ancora una volta pensiamo a come si organizza una famiglia, è cambiato. E' cambiato con dei tempi lunghi ovviamente, possiamo semplificare questi tempi usando una metafora di ipospaziale che è appunto la verticalità e l'orizzontalità. Per tanto tempo noi abbiamo organizzato questo legame con il senso della verticalità. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo messo in cima lo Stato e sotto l'individuo, dando allo Stato un valore positivo e all'individuo un qualche cosa di disturbante, qualche cosa che andava addomesticato e controllato da parte della forma statale. Se traduciamo questo senso della verticalità, lo Stato che controlla l'individuo e la trasferiamo dentro l'idea del singolo essere umano, troviamo che nella parte alta dell'essere umano, che cosa mettiamo? La ragione, il ragionamento. Nella parte bassa, le passioni, qualche cosa che è perturbante. Se prendiamo il modello di uomo, che è noto a tutti ormai, quello appunto della psicoanalisi, mette la parte inconscia nella parte bassa, la parte conscia nella parte alta, mette le pulsioni nella parte bassa, che sono distruttive, che muovono l'essere umano, e la parte del controllo, la parte lì o quella componente civile nella parte alta. Questo senso della verticalità ha governato per secoli la tradizione, quindi in qualche modo ha governato il legame, quella socialità di base che rende l'essere umano un essere umano. Questo modo di impostare la socialità è andato in crisi, semplificando, è andato in crisi quando il moderno, e quindi l'idea appunto di questa verticalità, di questa logica anche di obbedienza che il singolo doveva a chi stava sopra, quindi l'autorità allo Stato, è venuto meno con il cambiamento delle idee, con il cambiamento del modo di pensare ai rapporti dentro la famiglia, con l'emancipazione del ruolo della donna all'interno di un certo tipo di tradizione, che ha messo in qualche modo a dura prova la logica della verticalità. Potremmo dire che noi oggi siamo sempre più spinti dentro una logica dell'orizzontalità, cioè dove il singolo in qualche modo si è affrancato da un principio di obbedienza verso chi sta sopra, e sempre più è un individuo che aspira ad avere un punto di vista, il mio punto di vista, voglio dire la mia. Ovviamente il cambiamento che c'è stato nella società, l'avvento dei sistemi democratici, l'avvento delle modalità di comunicazione, la tecnologia, hanno prodotto un aumento dei gradi di libertà per il singolo. Oggi il singolo all'interno del legame gode di margini di movimento, di scelta molto maggior rispetto al passato. Ma quello che accade credo oggi in modo importante è che siamo chiamati a dare, come dire, un nuovo patto sociale a questa orizzontalità. Mentre la tradizione che conosceva il senso della verticalità, dava un senso di ordine, di sicurezza, perché diceva sopra c'è la parte buona e sotto c'è quella cattiva. C'è un assetto societario che è lo Stato, che è positivo, garantisce la civiltà, garantisce il benessere, il progresso e sotto c'è l'individuo che deve in qualche modo muoversi e rinunciando a qualche cosa per sé per poter stare dentro questo patto di civiltà. Oggi questo patto è saltato. Oggi abbiamo sempre più singole persone che sgomitano per reclamare un proprio spazio di soggettività, per avere più spazio per sé. Ancora una volta se guardiamo alla famiglia come metafora di questo passaggio dalla verticalità all'orizzontalità, vediamo che non c'è più nelle famiglie il capofamiglia di un tempo, il maschio di turno, che impone la propria legge nel nucleo familiare. Oggi abbiamo dei climi molto diversi dentro la famiglia, abbiamo un ruolo della donna profondamente cambiato, sono cambiati enormemente il ruolo dei figli, poi possiamo decidere se questo è come dire cambiamento ci piace o meno, se è soddisfacente o meno, ma indubbiamente noi oggi viviamo questo tempo di questo cambiamento, di questa continua messa in discussione di questo patto. La tradizione tendeva in qualche modo a consegnarci un mondo che era già deciso una volta per sempre e che non c'era tanto spazio, si poteva ottenere qualche cosa, qualche miglioramento, ma di fatto era un mondo già deciso. La contemporaneità con tutti i passaggi che ci sono stati in qualche modo comincia a dire no, il mondo non è già deciso, cioè io posso decidere in quale mondo stare. E questo chiaramente allarga le prospettive nel bene e nel male, perché poi i prodotti saranno anche nefasti. Quindi quando i bambini hanno cominciato a chiedere cosa vuoi fare da grande è cambiato il mondo. Prima non glielo chiedevano cosa vuoi fare da grande. Esatto, cioè nel senso che c'è una bellissima metafora anche qui che usava Simmel, un sociologo dell'inizio del Novecento, che era le cerchie umane. Questa metafora della cerchia umana era una metafora che ha avuto un grande successo all'inizio del Novecento e disegnava il posto del singolo dentro la tradizione. Allora, io che ho un padre di origine contadino che poi ha fatto l'operaio, è una madre mondina, potevo al massimo muovermi dentro questa cerchia. Non avevo una possibilità di uscire da questa cerchia. Al limite potevo fare o il contadino o a una volta fare l'operaio, come ha fatto mio padre. Nella società fortemente individualizzata, con tutti gli aspetti positivi e negativi di questo comporto ovviamente, le cerchie in qualche modo si spezzano. Io riesco ad uscire da questa cerchia. Non vuol dire che le differenze sociali spariscono d'incanto, tutt'altro, anzi. Però, come dire, lo spazio di pensabilità del mondo e di azione del mondo, che si traduce anche nella mia biografia individuale, muta, muta enormemente. Poi possiamo ragionare se a questo mutamento di possibilità non corrisponde, come dire, una reale opportunità di concretizzare queste possibilità, con elementi appunto di frustrazione. Non è un caso che uno degli elementi negativi legati alla perdita della tradizione che i ruoli sociali, pur vincolandomi, sul ruolo di un padre ad esempio, mi stabilizzavano. Cioè io ero sempre comunque un padre. Oggi, nella società della crisi, che è sempre tutto imprevedibile, dove una persona che ha superato i 50 anni, che era vista come una sorta di momento della stabilità, dove uno aveva fatto un investimento per tanto tempo, superato in un certo, come dire, ambito di età, lì era il momento in cui, non dico poteva sedersi, però poteva godere dei suoi investimenti, dei suoi frutti. Cioè aveva, come dire, un terreno davanti che era più piano, come se in qualche modo avesse già fatto la sua salita. Oggi è profondamente sconvolto. Oggi sei continuamente messo in gioco sia nei rapporti interpersonali, perché appunto anche i rapporti affettivi possono essere negoziati a qualsiasi età, ma sia anche nell'ambito lavorativo, dove la tua stabilità può essere in qualche modo incrinata, fortemente incrinata, da eventi che sono apparentemente imprevedibili e che hanno la capacità di metterti i 4-20. Non è un caso che oggi un cinquantenne non può più, come dire, stare seduto. Cioè è fortemente spinto all'iniziativa. Adesso è sempre aggiornato, adesso è sempre comunque attento a quello che sta cambiando. Cioè, come dire, il ruolo sociale mi imprigionava, però mi dava anche un certo tipo di agio e mi stabilizzava. La mancanza di questi ruoli sociali, che sono sì, come dire, vincolanti ma stabilizzanti, che cosa mi porta? Che noi oggi siamo sempre spinti a fare. Siamo sempre sollecitati. Cioè l'uomo contemporaneo è l'uomo che deve avere iniziativa, che deve essere motivato, che deve progettare. Cioè deve continuamente reinventare. Un progetto si conclude, deve reinventare un altro progetto. Deve continuamente essere fortemente mobilitato. E questo chiaramente poi produce una stanchezza da vita. Cioè, un tempo si diceva che si moriva sazi di vita. Oggi forse si more stanchi di vita. Cioè perché abbiamo questa continua presa sull'individuo. Grazie a tutti.